Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi presento un'applicazione per la matematica che si chiama FotoMath ed è in realtà aumentata perché va a risolvere dei problemi di aritmetica, le equazioni, problemi di trigonometria, il calcolo infinitesimale, problemi di statistica. E' disponibile l'app per iOS e per Android. Vi metterò il link sotto questo mini video. Come si fa dopo aver aperto l'app sul proprio dispositivo? Si punta sul problema da risolvere, viene fornito tutto il procedimento di risoluzione nei vari passaggi per arrivare al risultato. Si ottiene anche il grafico. Possibile percorrere soluzioni alternative. I vantaggi e gli svantaggi. I vantaggi sono che lo studente può studiarsi il procedimento ed imparare. E' molto utile questa applicazione per allenarsi, utile per controllare le proprie risoluzioni ed avere feedback. Lo studente potrebbe usare l'app, questo è un aspetto contrario all'utilizzo di questa app, solo per copiare una risoluzione e un procedimento. Questi sono gli esempi. Quando usare FotoMath in qualsiasi momento per esercitarsi nella risoluzione dei problemi e per apprendere un consiglio, il docente potrebbe consigliare agli studenti di utilizzare l'app FotoMath in Homework per avere un feedback sulle esercitazioni fatte per apprendere i procedimenti, anche quelli alternativi. Ora andiamo a vedere come funziona l'applicazione. Una volta che avete installato l'applicazione e l'avete aperta, con la fotocamera disponibile, potete puntare ad esempio su un problema di tipo matematico, ad esempio questo, prendendolo magari dal libro. Ecco, vedete che qui mi dà la risoluzione dell'equazione e mi mostra poi i passaggi della soluzione, tutti i passaggi, poi mi dà spiega i passi, ecco, successivo, cioè spiega tutti i passaggi e quindi può essere molto utile dal punto di vista didattico. Torniamo un attimo indietro, mi dà poi anche il grafico e poi mi dice di scorrere per vedere le altre soluzioni dell'applicazione. Torniamo indietro e quindi vi ho presentato questa app abbastanza utile per la didattica della matematica.